Vengo da Catania, ho due figli, Teresa e Giorgio, di 6-4 anni, anzi come dicono loro 6 e mezzo, 4 e mezzo, giusto, e sono sposata, vivo qua da 6 anni. Siamo venuti per lavoro, mio marito lavorava a Milano ai tempi, però non era contento, le condizioni non c'erano. Abbiamo deciso di venire qui per cercare una vita migliore di fatto per noi, per i nostri figli, un'occasione più adeguata. Mio marito si trova benissimo, è contento del lavoro, delle condizioni e tutto, quindi molto contento, però abbiamo dovuto fare una scelta, ho scelto di stare a casa io con i bambini. La loro scuola è una scuola pubblica? È una scuola pubblica, sì. Quindi voi non pagate nulla? Non paghiamo nulla, no. Non vi chiedono soldi per sapone, cartigenica, fogli, colori? No, assolutamente no. Ma è successo? No, 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 assolutamente no. E quando tornate in Italia? Di solito è d'estate. No, no, dico, quando tornate per sempre in Italia. Ah, per sempre? Non lo so. Non hai dei programmi? No, non lo so, non lo so. Ho imparato a non fare programmi. Vediamo quello che succede, vedremo perché per adesso siamo contenti qui. Avevo la mia idea era quella di fare l'insegnante in Italia. No, devo dire che mi è sembrato di rinunciare a molto lasciando l'Italia, però poi mi è stato dato molto di più e quindi non lo so, non credo per adesso di tornare. No, non lo so.